La nostra azienda, il Panificio Macoritto, è nata nel 1961, dopo che mio suocero Valentino è andato in Canada, emigrante come tanti friulani. È partito a 16 anni, è tornato a 21, ha comprato questo piccolo forno, quella volta era molto piccolo, e pian piano è cresciuto con il pane fresco e la pasticceria. Io, mia moglie e mia cognata da 20 anni siamo in azienda e da un po' di anni abbiamo implementato il lavoro dei nostri bastoncini di pane, oltre al pane fresco e alla pasticceria, cercando di dare un assortimento sempre più ampio. Siamo partiti con due tipologie, adesso siamo a nove, la ricerca della qualità è costante. Abbiamo voluto dare una caratterizzazione molto particolare della nostra famiglia e della nostra azienda a questo prodotto, friulano perché comunque la tipologia di grissinetto corto è tipica delle nostre zone e soprattutto abbiamo implementato due ricette che sono fatte con ingredienti tipicamente friulani, che sono il mais, il semere girasole e i fiori di sambuco.